La montagna fragile e necessaria, il riappropriarsi di spazi vitali da tutelare per programmare prima e oltre, per esempio, i terremoti. Così la centralità della montagna diventa uno dei temi chiave voluti dalla Fondazione Simbola all'interno del Festival della Soft Economy e del seminario estivo a Treia nel Maceratese dal 2 al 6 luglio. L'evento di Treia ha l'obiettivo di dar vita a un manifesto che definisca le proposte per un'agenda politica dal basso per la montagna italiana nel contesto europeo, per una sua nuova centralità e una nuova civilizzazione. Sentiamo alcuni passaggi dal Festival. Cosa faccio delle aree interne? Perché non lo sappiamo. Io domani mattina sono pronto, lo dico in streaming così i sindaci mi sentono, a far scrivere a tutti i sindaci il ministro Lecce, il presidente del Consiglio, dicendo allora cosa facciamo? Due, sull'innovazione, in funzione di quello che dicevo. Tre, continuiamo a bloccare i decreti sull'incentivazione delle rinnovabili a vita? Le rinnovabili, ce l'ha spiegato Legambiente due mesi fa, quando con Zanchini abbiamo presentato il nuovo rapporto, per cui tutti gli impianti non sono più allacciati, pochissimi impianti nuovi allacciati, perché? Perché non c'è più certezza dell'investimento, neanche su quello abbiamo certezza in questo Paese. Le riusciamo a fare insieme con le università che hanno idee, proposte, volontà? Le riusciamo a fare insieme queste battaglie? Io il sistema degli enti locali lo porto su questa roba, perché se non lo porto la questione è una, veniamo spazzati via e da sindacalista dei territori, delle comunità, adesso non mi attacco, sindacalista ci provo, non voglio essere spazzato via.